messaggio della madonna primo maggio 2019 oggi la madre santissima è venuta accompagnata dal bambino gesù che era nelle braccia di san giuseppe tutti i tre erano radianti davanti a ciascuno di noi è stato la madonna che ci ha donato il messaggio la pace miei figli amati la pace figli miei io vostra madre vengo dal cielo con mio figlio gesù e mio sposo giuseppe per benedirvi e per concedervi le mie grazie materne non allontanatevi dalla via santa di dio difendete sempre la verità lottando contro animale e menzogna io sono qui perché mio figlio divino vi ama immensamente e desidera la vostra eterna salvezza non vi lasciate imbrugliare seduri dalle trappole e menzogna del demonio abbi siate stati attenti chiedete sempre la luce dello spirito santo e mai camminerete per la strada delle errori lo spirito santo sempre vi mostrerà la menzogna nascosta sotto l'apparenza di verità io sto a intercedere in questa notte unita con mio sposo giuseppe per voi per le vostre famiglie consacratevi sempre mio cuore immaculato io vi aiuterò a fare la volontà di dio io vi amo in questa notte vi dono una benedizione speciale un bacio d'amore il mio sposo vi copre con il suo sacro manto e manda dirvi che è starà sempre a vostro fianco per aiutarvi condurvi per la strada sicura che vi porta fino in cielo pregate 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 figli miei dio vi invita la conversione alla santità cambiate vita tutte le sofferenze che supportate nel nome di dio si sta trasformando in grazie e benedizioni per la salvezza di tante anime coraggio io vi amo e vi benedico nel nome del padre del figlio dello spirito santo amén